Però fa un caldo pazzesco qua. Eh sì, perché lì c'è il calorifero che rimane fisso, rotto per tutto, cioè giorno, notte, estate, inverno, 60 gradi, sì. E aggiustiamolo. Eh no, non si può aggiustare, infatti lì è venuta la zona tropicale, vedi le mangrovie? Non è che ci sono caso. Però qui fa un freddo barbino da questa parte. Eh sì, infatti rimane sempre aperta la porta del freezer, purtroppo. E chiudiamola. Non si può aggiustare, infatti lì c'è la zona artica, non vedi? Che ci sono i cani da slitta, eh? Warm Morning, Argo, Armadu, eh? Buoni lì. Come mai c'è la carcassa dell'ognù di qua? Perché è morto nella zona calda, ma per conservarlo l'ho messo nella zona fredda. Ah, per non farlo andare in putrefazione. Sì, però fa un caldo pazzesco qua. E tipo fa un freddo che non si fa più. E invece qui c'è la zona temperata, si sta da dio. Eh ho capito, però a noi si sta male. È dieci anni che giochiamo a casa mia il giovedì e vi lamentate sempre. Cambiatevi. Cambiatevi, avanti così, avanti con questa dittatura. Già c'è uno sbalzo di 60 gradi.